e benvenuti amici youtube in questo nuovissimo video io sono rex100 e oggi il nome del pollo sono in compagnia di xfobos c'è c'è una fiamma ma che cazzo ragazzi siamo venuti qui su payday a fare un bellissimo colpo in banca perchè si devono soldi per i pc e ovviamente andiamo a prendere loro per pro e ha fatto pure la rima forza e bulle forza e bulle forza e dislessia la dislessia portami via il pagamento sale 200.000 e la difficoltà difficile perché abbiamo alla prima che abbiamo trovato forza la figa esatto perfetto adesso forse no ma che sei gay mi se la ride vissi il lidsi steam adesso mi compro tutto allora apertura del cavo vediamo un po' che si può fare allora cos'è? ok allora risorse kit medico, ambulanza parcheggiata, tetto parte posteriore tetto parte anteriore ma se so quani senti ho? 8.000 euro vabbè molto, tutte cose che ho comprato ma giù di posto tattico lo levo o metto metto uno leggero? ehm no mettiti quello tattico 8.000 euro subito salvo finiti i favori vabbè sei pronto mi fa stare oltre 7 giorni perchè stanno 1 2 3 è perchè sono missioni che durano 7 giorni sei pronto yes quando dovrebbe dare 7 milioni i e vabbè forse ho vissuto 7 giorni no il secondo è muore quello di una macchina e dovessi aspettare un attore che viene giusto? allora questa mappa dovresti conoscere, no? si è il primo giusto si la conosco, è il primo della demo, della fa fa la demo esatto, esatto quindi la conosci? si però ieri vi ho visti il video di uno di P-Tain che praticamente quale guardia sono un po' scemonita? aspetta 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 è una guardia c'è una guardia, è una guardia la pure sopra sul tetto pure c'è si è la guardia, fermo, 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 non ti avvicinare dove sta la guardia? la pure uno sul tetto dove sta? ma non sempre, quelle cose cambiano di partita in partita allora aspetta ma aspetta ma aspetta non possiamo metterlo lascia il senso io, fermo, fermo si è andato dentro buono, buono meglio così metto la maschera, fermo va buona, dai fermo, fermo dai in azione aspetta aspetta aspetta, prendo il trapano ok fermo, 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 fermo aspetta no, non è più il bot no è l'attenda del donne, la barriera, non c'è la bleedina del telecamere eh come c'è la telecamera via no, ti voto no, non ti le rendi me' è un civile me' un civile no, è pulizziotto, non è civile se lo faccio non c breaking ma viene correctしました la volta non c'è parte PLA qua sopra C'è un civile C'è un civile da sopra Aspetta aspetta lo faccio No non lo sparare fermo E' morto non fa niente Perché sennò lo vedono Vieni qua Fallo stendere qua sopra così non lo vedono Va bene qua Ok fermo fermo basta Ok vieni Ma qua c'è un computer Cos'è sto coso Ah per quello è il kit e kit medico vieni vieni Ok ragazzi vado se riusciamo a fare tutto in stealth Allora Aio C'è un copo C'è un poliziotto fermo 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 Eh quello sta sempre lì quello è difficile perché Ok fermo la notta la notta Rottore la telecamera Fermo Fermo torna qua Non c'è un telecamere da Dall'altra parte c'è un'altra guardia di là C'è un'altra guardia di là Adesso non c'è un telecamera Vediamo un attimo di qua vieni qua Dove sta la guardia Eh no una destra è andata a sinistra Con la destra Che succede? Che cazzo? Il corpo Quale corpo? Vieni vieni No Quale corpo? Vieni vieni niente Steltica Lega tutti Lega tutti Lega tutti Lega tutti Lega tutti Ecco questo Guarda il cuore che faccio No cioè non posso Aspetta sto mettendo il trapano Stenditi qua tu Aspetta fa venire le persone vicine al trapano così la polizia non li lega Slega No slega Falli venire Aspetta No Che è questo? Tutti qua Giusto? Aspetta No non posso Ci passare più di una Una Vieni con me Cioè Non puoi capire la canzone che sto sentendo in sottofondo Sto sentendo la canzone di Natale Perché non viene? Oh Natale Non è vero siamo ad agosto non può essere Non è vero siamo ad agosto non può essere Non è vero siamo ad agosto non può essere Non è vero siamo ad agosto non può essere Non viene Vai me fagli venire Ma che cazzo Oh la SWAT Che sta succedendo va fuori Non lo so manco io So che cazzo fare questo Sì porca puttana dello sternuto No no tu vai Ok bro Inizio Ma perché c'è la canzone di Natale Ma ce ne stanno anche allo 800 qui di persone Sì ma che cazzo è Capito? Legale tu Sto legando tutti quanti Inca Porca puttana Sto accendere a questo Ti pare i suoi attigliattoni Lucio Lucio Mi sei morto No questo non l'abbiamo cagato L'ho qua vicino non l'abbiamo cagato Vabbè fa niente Avrò qui Ma c'era Vuoi No ci sono un navo Ho spavato a cavolo Ho ammazzato un civile Sorry Sorry Ho spavato una cosa Ricorda guarda Così Ho ammazzato un civile Foro civile Cosa sarà pensato Il trapano Vado io Il trapano Vado io Natale 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 Perché mi sono messo la maschera di Babbo Natale Non sta facendo sentire le canzoni di Natale Ah 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 Bellissimo Ho tornato delle assi le metto Buonasera Ecco fatto Dove è stato eh Ma che cavolo Ma così grosso sto trapano La canzone di Natale Cosa dietro Grazie Oh che figo sta cosa infilza e sciotta Mi stanno sparando Non capisco Dove che mi Ma che mi stanno sparando Ah da lampo Il trapano Il trapano Il trapano Ma dove dici il tempo ecco Ancora 100 secondi No ma è bellissima sta canzone La canzone di Natale Non è Natale Siamo d'agosto E' un po' che c'è un po' che c'è Gas bellinoso Tra l'altro da notare che su un film di Batman ci sta Ora non in questo preciso istante non mi ricordo il nome No 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 aspetta questo il gasolinosolo Eh ci sta nemmeno tutto anticoietro Eh no so Eh se non mi sbaglio No su ci stava una partita di Gad equality di chi ha messo il motel maschera se bastone fumo ora in questo video non ho detto non andare però perchè loro non muoiono perchè loro portano qualche cosa di cosa di speciale domani vengono d'alto b stdolastico e sopravamo anni di quattro vigni fino a poco si chiama o via a fare le tu l'ultimo la scaricata ma perchè per me andiamo a che parte l'ora il 2.0 l'altro riferimento a pedi 2 c'è a si stesso perchè se mi sbaglio sull'uno ci stavo quello normale invece poi c'è il 2.0 l'ultimo 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 nooo le canzoni di speriamo che non mi segnalano il video per copyright lo spero troppo ma finì che mi elimina il video perchè per il copyright per la canzone di natale c'è la canzone di natale vabbè ora si sa del gioco no? l'ultimo appunto gli ammazzo tutti come sto ammazzando stiti ma perchè l'ioe persone di tardare c'è l'esempio tu quando ti muovi ti vedo che il tuo ingegno senti ho appena visto dice che si parla che chi si baggava si baggava noi si presenti 5 4 3 dai stessi 2 1 aperto ruba l'oro ruba l'oro vabbè vabbè un altro gravano ci ne vuole un altro ancora basta 176 quando c'è ne sono i d fatti guarda quanto oro ma ci ho compiuto e là vabbè beh vabbè non lo vabbè ma hai vedo che dove che ci sparo vabbè ılan che ci sparo puoso non due 3 3 5 4 6 va grasso Ma fa strano sentire le canzoni di Natale su P-Day Te-te-te-re Te-te-te-te-te-te-te-te-te È quello con la sputa comunque Te-te-te-te 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 Ma il C-4 scusa non- Muori te sei del cazzo Ok minstante Per favore YouTube non mi segnala il copyright È troppo bella sta canzone Ma nessuno di questi ha qualche chiave Forse per abidire no vero? no intero le potessi scassinare chiesa raffreddato come lo schifo oggi sono le persone al ritmo buoni tizio ma quando finisce sto gas o fa un attimo 2 io ando a tempo modo che poi per terra lì ci sta una persona che è un legato e non è morta quindi mi sto chiedendo che solo noi siamo delle persone eh appunto tutte le persone con il gas non muoiono pure le persone legate e noi si la marca che c'è zicca ma c'è la tattica le persone normali ce le tanno no si sa perché teee perché ci sono un massaggio di film che non soffre del signora perché si no cioè non è morto è morto non ci sa la guardia ragazza è bella sta cazzo nooo nooo sto morendo ue si è aperto e la banca qua prendi loro prendi loro aspetta prima voglio scassinare almeno una serratura prendi loro e con il martello dai dai almeno uno una sola ne vuoi eh se il furgone scuso il furgone te lo dice appena la prendi aspetta sto scassinando una piccola serratura qua voglio dire se magari sono fortunato e trovo qualcosa eee pom e invece abbiamo trovato qualcosa ottimo ma che stronzo eeeh oh pure qua pure qua no no però si può scassinare tutto però poi ci mettiamo troppo tempo ah boh però ah scassi 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 non sono un maestro non sono un maestro non sono un maestro troietta ovviamente io non sono contro la polizia anzi la dura duemila il caldo dovevo prendere 5 mila cinque mila basta scassinare non scassi non scassi non scassi tutto ma tu sei scello la vita che viene 5 ore scassi non devono fermo basta ti faccio un gioco con la bomba scassi basta 2.500 basta eh dai io me ne vado ti lascio solo ultima dai l'ultimo da 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 e ti l'oro al secondo non porto dobbiamo mettere solo no il Jugger già e che no via 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 a la mazzata guarda qua giù ne sono ma basta scassi ma basta scassi guarda qua come ce ne sono lasa o prendi prendi i soldi i soldi i soldi i soldi ok basta basta andiamo li prendiamo dopo quei soldi si devono prendere dentro il sacco li prendiamo dopo quando torniamo vieni Vieni, vieni Bisogna passare Basta Io sto andando Vieni Sono passato in mezzo al fumo Eh, non ti preoccupare Il fumo resi Ok, incominciamo a buttare qua Dove l'ho buttata? Dentro il camion, devi buttarla Andiamo a prendere dell'altro Vieni, vieni Vieni, vieni Faccio una idea Adesso sta cantando pure Babbo Natale nella canzone Eh, mamma Natale c'era qui, vieni No, te la devo far sentire Sì, si 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 miola un beleno, vai Quando vedi il video te la devo far sentire Vai, prendiamone altri, vai, altro oro, altro oro Diventare ricchi sfondati Oddio, ma ce ne sono Oddio, ma ce ne sono Oddio, hai fatto bene, andiamo, andiamo Oddio, questo colpo andrà benissimo Oddio, ma ce ne sono Mi hai fatto l'ultimo, vendilo Si aspetta No, 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 no Ok, tappato, tappato Oh Ok, meno male che non ho guardato l'accecante Ok, prendo l'ultimo oro L'ultimo oro L'ultimo oro Lo scassino ancora No, ma tu sei pazzo Ok Ok Ci mettiamo troppo tempo a scassinare tutto 143.000 basta se abbiamo finito vieni andiamo 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 non c'è nessuna guida gire attenta ma sempre giro c'è nessuna guida non c'è nessuna guida ma guarda abbiamo pagamento dobbiamo seminare la polizia ecco lo sapevo no di nuovo il fatto dei pano no ma è vero se l'ho salito di livello livello 48 martello ding dong ma te lo fai lì fermo e fammi stare di livello posso acquistare il fucile ak5 ottimo andiamo aspetta mannaggia basta ti voglio bene mi chiami 20 minuti questo video 20 fottutissimi minuti sta venendo vabbè facciamo la seconda parte va chiesto qua dobbiamo soltanto fuga speciale dal locale questi maledetti ci sono due se devi tirare furtiva sicuro difficile tanto ci sono le macchine che bussano qui dove siamo adesso spesso vediamo ancora con sta calzo prendi tutto il bottino e vallo a nascondere da qualche parte e dove non lo so qua qua ma ci vuoi mettere qua dentro mettiamolo qua ma ci vuoi entrare dico qua ma buonatale non cantare per favore che non puoi entrare perchè questi negozi sono chiusi non lo so devono mettere però eh qua non mi sento ultimo di qua ok mettiamolo qua ma solo a noi però poverini questi qua che sempre a loro gli muore l'autista cioè se qualcuno dice vieni a fare l'autista tutte quante le persone a meno che non vogliano morire noi non possiamo fare l'autista no no in una missione si può fare per non no il fumogeno pure buttata il fumogeno qua mezza la strada faccio saltando dico legato a una persona legata a un'altra no lasciate stare però vieni a coprire i pacchi qua i pacchi bottino eh e se lo rubano chi i poliziotti come se le prendono e se lo nascondono ma cazzo dai vieni stiamo qua così non se lo prendono si ma quanto cazzo di tempo ci mettono quelli all'arrivare dai intanto leggo le persone così abbiamo degli ostaggi ok da 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 la rarab IG Это ilū il resto la proposta dall'altra parte mannaggia stavolta del mo ben io proprio ben io tanto napoletano la presa della gara pietro ecco vieni vieni aah e caldo è andato o che fa dietro da quale pietra ho buttato già il primo il primo sono un pochino di cose arriva arrivo in ii vuoi orvi e sd e raffredd di vini bravo dammi dammi bella tattica questo che si aspetta l'ammazzo puro 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 veloce da tre minuti finisce la missione ed è cazzo andato mo oh oh tra tre minuti finisce la missione la perdiamo non puoi andare via di a caso prendi i pacchi prendi i pacchi andiamo stai raggando non capisco niente prendi e l'ho preso andiamo eh ma tengo una alla volta sono gli ultimi rimangono poi gli ultimi due prendiamo gli ultimi due e vinciamo vedoci che mancano due minuti vai ma perché gli altri non li prendono non capisco perché sono scemo sono i miei raggiunti tempi sul vero dai 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 per attore oma di babbo natale dai vai a prendi i tuoi ma gli ultimi due no se li stanno prendendo nooo se li stanno fotendo io vai to che per prendere quell'altro la io prendo questo preso questo per i quelli la bella bomba e vedo tu uno foto l'ocise civile con la. vai andiamo andiamo da un momento carico non so l'altro civile 4 per finito ancora non ho finito un altro vieni vieni è finita vieni s e vai non c'è inchienti 5 matona quanti soldi l'ho 200 mila ma se ci fai se tu non metti il botto con da un no ok dai ti botti ciuta lo butti lo butti livello 49 35 ok scegli una carta dove stavano me la mia marca dove stavano me la mia marca dove stavano me la mia marca non c'era la carta ah vabbè scelta che cosa ho sbloccato modifica la revolver che devo fare con la revolver non la uso vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi condividete in nome del pollo noi ci rivediamo in un prossimo video a presto a presto a presto a presto a presto